Anche in Abruzzo nasce un comitato per dire no all'autonomia differenziata. È composto da CGL, Arci, Ampi, Ali, Coordinamento, Democrazia Costituzionale e Associazioni Antonio Gramsci. Oggi conferenza stampa nella sede della CGL a Pescara. Il segretario generale del sindacato per Abruzzo e Molise, Carmine Itanieri, i presidenti regionali dell'Ampi, Luigi Borrelli, Diali e Angelo Radica, del Coordinamento, Democrazia Costituzionale, Enrico De Marchi e Benedetta, la penna dell'Arci di Pescara. Hanno evidenziato che con l'approvazione del DDL Calderoli l'intero paese andrebbe incontro a conseguenze gravissime. Intanto il 28-29 febbraio in Abruzzo e Molise arriverà un camper per ribadire che l'Italia, come prevede l'articolo 5 della Costituzione, è una e indivisibile. Sentiamo Benedetta La Penna, Carmine Itanieri e Luigi Porrelli. Per noi è fondamentale ribadire che siamo contro l'autonomia differenziata per istituire il coordinamento non autonomia differenziata Abruzzo. Quello che ci prefiggiamo è proprio quello di far capire alle persone che l'autonomia differenziata è un qualcosa che andrà contro la nostra regione, come tantissime altre regioni che hanno difficoltà nel portare avanti dei piani sociali. Anche cercare di spiegare che cos'è l'autonomia differenziata che è più può sembrare un po' complessa. Però cercheremo di spiegare perché siamo contro, ma soprattutto perché può fare del male all'unione e alla parità delle regioni in Italia, che come sappiamo non sono tutte uguali fra loro. Con l'autonomia differenziata cosa cambierebbe in Abruzzo? Si allargherebbero le divergenze nelle prestazioni sociali, sanitarie tra le regioni, tra il nord e il sud del paese. Avremmo 20 Stato-Regioni allargando appunto i divari che già ci sono. Pensiamo alla sanità. I cittadini abruzzesi vanno a curarsi fuori le regioni, i nostri servizi sanitari sono scadenti, abbiamo enormi liste di attesa. Regionalizzare ulteriormente la sanità significa aumentare i divari. Iniziamo all'istruzione. L'istruzione oggi è il fondamento della coesione nazionale. I programmi scolastici sono nazionali. Sarebbe incredibile e sarebbe davvero dannoso avere dei programmi scolastici diversi. Anche qui avere dei docenti assunti dalle regioni e non più dallo Stato. Non parlare delle infrastrutture. Pensiamo che 23 materie verrebbero delegate alle regioni. E quindi sostanzialmente finirebbe la coesione nazionale. Un cittadino italiano avrebbe diritti diversi a seconda se risiede in Abruzzo o in Lombardia o in Emilia Romagna. Se noi pensiamo che Lombardia, Emilia Romagna e Veneto producono il 40% del PIL, quelle sono ragioni ricche che trattenendo il gettito fiscale nella loro regione potranno certamente fare di più rispetto a una regione come l'Abruzzo, che è una regione che invecchia e che ha un PIL piuttosto debole, un'economia debole. Qui in Abruzzo si vota per la regione, mi pare che la cosa più importante dovrebbe essere parlare del futuro della regione. L'autonomia differenziata inferisce fortemente sul futuro della nostra regione e in peggio, senza dubbio. Quindi parlarne durante questo periodo elettorale mi pare la cosa più importante.